cari amici lucania tv.it si trova questa mattina presso la sede del Rotary Club di Lauria accanto a me vedete il presidente del Rotary Club Lauria l'avvocato Italo Grillo e io voglio subito iniziare questa breve conversazione facendo un complimento non è piageria per l'amor di Dio al presidente ma soprattutto il Rotary Club perché uno è la prima volta che venga a visitare la sede e ci sono tante belle cose soprattutto i nomi dei comuni dove vegeta e ha una bella salute il Rotary Club e poi tanti gagliardetti che testimoniano come nel mondo questa associazione ha preso sempre più piede ecco lo volevo dire le avevo detto in privato lo voglio dire adesso in diretta davanti a migliaia di speriamo spettatori di questo programma Italo da profano io ti devo dire aggiunga i complimenti altri complimenti sembra che questo 2018 che sta per chiudersi sia rivitalizzante per il Rotary Club non è che da quando ci sei tu sto Rotary Club è diventato più popolare tra virgolette nel senso buono è chiaro? no ti ringrazio innanzitutto i complimenti però devo dire che il Rotary in generale e a Lauria nello specifico è stato sempre molto attivo forse oggi abbiamo la fortuna di poter utilizzare degli strumenti come quelli dei social della comunicazione della stampa che consentono a fette più ampie di pubblico di conoscere quelle che sono le nostre attività noi abbiamo delle attività che si svolgono in ambito locale abbiamo delle attività che si svolgono in ambito internazionale ma davvero forse il problema è quello di comunicazione mi prendo un merito che è proprio questo cioè quello magari di aver dato una voce più giovane più in linea con gli strumenti tecnologici moderni a Rotary Club di Lauria ma sui contenuti c'è una continuità che va avanti negli anni la possibilità di far vedere la nostra bella sede sicuramente è un'occasione che forse per la prima volta effettivamente quest'anno si è verificata l'occasione di poter pubblicare dei contenuti delle nostre attività di volontariato di beneficenza e culturali questo effettivamente è semplicemente i nuovi media che ce lo consentono so che un minuto fa hai pubblicato su instagram questo nostro incontro e questo è come dire stupefacente cioè un minuto fa già questo nostro incontro questa nostra sede la nostra conversazione sta già viaggiando per il mondo e è una cosa importante le direttive che ci arrivano dalla Rotary International dal distretto 2100 che comprende la campagna la Calabria e il nostro territorio di Lauria sono proprio quelle di lavorare molto sui social perché l'immagine del Rotary deve poter essere come dire diffusa conosciuta e compresa anche per questo e su questa linea il mio intendimento è stato quello per esempio di fare i caminetti aperti se il caminetto è inteso come l'incontro tra i soci per discutere ognuno della propria professione della propria attività e quindi superare i saperi specialistici per poter mettere insieme l'avvocato il dottore, il professore e l'artigiano o il piccolo imprenditore e quindi scambiarsi un'opinione con il caminetto allargato cioè la formula che ho cercato di proporre e di lanciare nel corso di questo mio anno abbiamo un ulteriore passaggio in più cioè anche chi non è socio del Rotary Club può insieme a noi trasmettere informazioni e riceverle. Abbiamo fatto per esempio due manifestazioni quella con la scuola cioè la premiazione degli studenti meritevoli a settembre con il professor Francesco Bellusci quindi un relatore esterno che però si è rivolto a una platea di Rotariani sì certo ma soprattutto a una platea esterna cioè le scuole, gli alunni, gli studenti i meritevoli e quelli che stanno facendo l'ultimo anno adesso quindi il Rotary esce fuori abbiamo fatto una manifestazione sull'economia nel mese di ottobre che anche a livello legislativo oltre che a livello Rotariano è il mese dell'educazione finanziaria e abbiamo il socio bancario che ha potuto spiegare agli amici Rotariani ma anche agli amici non Rotariani alcuni come dire segreti e misteri del proprio del pratico bancario ma abbiamo avuto anche il relatore esterno Vincenzo Lapenta che è il nostro concittadino che ci ha parlato un po' di quella che è la macroeconomia e quant'altro quindi al caminetto interno affiancare il caminetto esterno proprio per dare un'occasione in più di farci conoscere e allo stesso tempo però anche di poter prendere dalle belle teste pensanti del nostro territorio noi stessi degli input, delle informazioni importanti. Ecco, mi hai preceduto nella domanda, ti volevo chiedere le ultime manifestazioni sono andate bene quella sull'economia, quella che avete fatto presso la parafarmacia al Lione San Nicola ce ne vuoi parlare brevemente? Sì, certo, allora la manifestazione che abbiamo fatto nella parafarmacia del nostro nuovissimo socio Diego Patroni rientra nel discorso che dicevo prima, un agire, un pensare globale e un agire anche locale. Il progetto Polio Plus and Polio Now, cioè porre fine a una malattia così invalidante come la poliomerite, è un progetto che nasce oltre 30 anni fa, nasce a livello internazionale presentato alla convention internazionale di Filadelfia nel 1988, sono esattamente 30 anni e il Rotary lo persegue a livello mondiale, cioè il Rotary ha vaccinato a livello internazionale 2 miliardi e mezzo di bambini. Bene, come fare a calarlo nella nostra realtà? Ecco, un'idea molto semplice che ci è venuta da un socio del club di Sorrento, fatelo nelle farmacie, fatelo nelle parafarmacie, cioè fate conoscenza, fate informazione, abbiamo presentato dei volantini informativi e abbiamo anche chiesto un piccolo contributo, con 60 centesimi si può vaccinare un bambino, si può salvare la vita di un bambino, lo si può rendere libero da malformazioni gravissime, 60 centesimi. Abbiamo raccolto con l'aiuto dell'inner wheel club di Lauria e con l'aiuto della protezione civile, con la quale abbiamo fatto un protocollo di intesa importantissimo, abbiamo raccolto 600 euro. Ora con quei 600 euro significa due cose, uno 60 centesimi, quindi non sono bravi in matematica ma gli spettatori se lo sapranno fare il conto. Una vaccinazione per 60 centesimi. Attenzione, la Bill e Melinda Gates Foundation, visto la grande capacità del Rotary di essere presente in tutto il mondo su questo tema, tutto il mondo è anche a Lauria, forse prima non si sapeva, ecco questo forse è stata l'occasione di fare una manifestazione aperta. Dicevo, la Bill e Melinda Gates Foundation per ogni dollaro che il Rotary International raccoglie nel mondo ne mette due. Quindi i 600 euro che abbiamo trovato, come dire, grazie alla generosità dei nostri concittadini, sono quindi circa 700 dollari, diventano 700 più 1400. Ancora di nuovo, chi è bravo in matematica si facesse i conti. Quindi è importante, è stata l'occasione innanzitutto, ripeto, di raccogliere dei fondi per un progetto importante, ma è stata anche l'occasione per portarlo a Lauria, i soci di Lauria, i cittadini, i nostri concittadini di Lauria, di Lago Negro, di Nemoli, non lo sanno perché non gliel'abbiamo mai comunicato noi, ma negli anni il Rotary Club di Lauria ha raccolto somme enormi, queste sono gocce, veramente sono state raccolte somme molto più grandi. Noi stessi come Rotary abbiamo contribuito con 1000 euro, oltre questi qua che abbiamo raccolto, ma negli anni, poi magari ce lo racconterà meglio qualche altro socio più esperto ed anziani di me, sono state raccolte delle somme davvero ragguardevoli. Ripeto, è importante, è importante proprio questo, è importante farlo sapere. Sembra strano, ma non bisogna solo fare, ma bisogna anche comunicare. Senti Italo, le feste ingombono e tra non molto partiranno, si spera, anche qui a Lauria, manifestazioni natalizie di fine anno, il Rotary sarà presente, credo che dopo tanti anni sia la prima volta, se non ricordo male, che il Rotary interviene, tra virgolette, nelle prossime manifestazioni natalizie. Innanzitutto coltiveremo il rapporto con la protezione civile, che ci sta dando veramente tanto, in termini di umanità e in termini anche di organizzazione. Con la protezione civile poi faremo anche altre cose nel corso dell'anno 2019. e poi per la prima volta, anche qui mi prendo questo merito, ma va bene, perché lo abbiamo deciso insieme con la squadra, non è un'idea solo mia, ma per la prima volta faremo in sede l'albero di Natale e faremo un Rotary Day, un Open Day, cioè la sede sarà aperta, faremo una tombolata, faremo una festa aperta, la speranza è quella di poter raccogliere qualche fondo dalla vendita delle cartelle e anche qui scegliere un'attività benefica che possa essere locale o internazionale, questo poi lo vedremo insieme magari con chi vorrà anche collaborare con noi, se la protezione civile, se altre associazioni, questo lo decideremo poi magari nei dettagli avremo modo di affrontare meglio. Le feste di Natale sono il momento per stare insieme, ma sono anche il momento per pensare un po' agli altri, per pensare un po' a chi magari ha più bisogno di noi, quindi sì, sarà un Natale rotariano particolare. Allora vedete accanto a me, sempre qui alla sede del Rotary Club, il dottor Alfonso Chiacchio, grazie dottore di aver accettato l'invito a essere intervistato, da quanto tempo tu fai parte innanzitutto del Rotary? Saranno 25-26 anni. Come è cambiato in questi 25-26 anni? Moltissimo, il Rotary prima era un modo forse di vivere la periferia in modo, fra amici insomma, quasi come un cenacolo, un club di amici. Adesso probabilmente si vive più nella vera essenza del club, un club che ha un seggio da auditore all'ONU, con un'azione non soltanto limitata al territorio di Lauria, ma a tutto il distretto che ricordo comprende tutta la Campania, tutta la Calabria e il territorio di Lauria che fa la tramite a queste due grandi regioni. Senti dottore, hai nella tua mente un ricordo vivo di questi tantissimi anni passati nel Rotary, un'esperienza, qualche avvenimento che il Rotary ha organizzato, perché noi lo precisiamo, l'ha detto anche Italo Grillo, il Rotary esiste da una vita e da una vita che fa tante belle cose. Una cosa che tu ancora oggi ricordi a distanza di tempo, per esempio. Sono tanti, perché il Rotary Club di Lauria, dobbiamo dirlo, è l'associazione più vecchia di tutto il territorio, non c'è nessuna associazione che può vantare, prima c'erano forse quella dei partigiani o degli avieri, in questo momento il Rotary è quello più longevole, a me quello che più è legato, chiaramente sono state le esperienze all'estero, in Africa, con gli amici di Lauria, perché il corpo dei volontari di questo distretto è nato da questa stanza, in questa stanza è da qui, è stato istituito il corpo dei volontari del distretto, che è diventato poi una, come dire, un fando per tutto il distretto del Rotary Club ed è nato da un'idea mia di Pino Rossetti, di Gino Cerrato, eccetera, eccetera, che poi ha coinvolto tante persone, per cui Lauria è diventata da questa stanza da un'idea malsana, forse quasi pazza, andiamo in Africa insieme a Umberto Brì, poi si è diffusa e ormai sono 13 anni che si va in Africa e scendono in Africa tanti amici, ma è nata in questa stanza l'idea di andare a fare veramente qualcosa di impregnante. Camerun, Burkina Faso, Ghana, la Tanzania con Totò Amoruso, giusto così mi ricordo a mente qualcosa e abbiamo addirittura prestato un nostro socio a Medici Senza Frontiere, Pino Rossetti, si è fatto un'esperienza sul campo, un campo di battaglia, sono andato di battaglia a Bangui, nella Repubblica Centroafricana. Ecco, noi ci riempiamo spesso la bocca di tante belle parole, i mass media, i giornali, le televisioni, ma che realtà c'è là veramente? Tu che ci sei stato l'hai toccata con mano. Lì c'è il Rotary. Noi siamo andati in Africa a incontrare i Rotariani del Camerun, della Repubblica Centroafricana, del Ghana, eccetera, ed è un modo particolare, anche loro si riuniscono, loro si riuniscono, abbiamo la birra e mangiamo gli arachidi. Insieme ai club delle altre nazioni, occidentali, americane, progettano sviluppo. E noi abbiamo aiutato quelle nazioni in alcuni progetti, probabilmente è stata una goccia, ma il mare è fatto da tante gocce. Veniamo al Rotary locale. L'ho detto prima, tante cose bollono in pentola, già il Presidente ci ha parlato di tre grossi appuntamenti, così, all'inizio dell'anno 2019. Dove vuole arrivare il Rotary Club e il Rotary Club di Lauria? Non vuole arrivare da nessuna parte. Il Rotary Club l'ha fatto con tante umiltà e in silenzio. Probabilmente è stata una carenza di comunicazione, ma diciamo non si è mai vantato di quello che ha fatto il club. C'è anche da dire questo. C'è stato un difetto di comunicazione, però il bene si fa in silenzio. Il bene è più elegante, si fa in silenzio probabilmente. Per cui se c'è stata una distorta immagine di questa associazione, di gente che vuole stare chiusa fra se stessi, probabilmente c'è stato un errore. Però c'è da dire che creare, come ha fatto questo club, un mezzo ospedale in Camerun, creare, come ha fatto Pino Rossetti, con dieci volte che è sceso in Africa e ha creato l'anestesiologia in Ghana e in Camerun. Essere andati con Nicolangelo Fittipaldi e con altri amici a valutare la possibilità di fare un progetto di imbottigliamento di acqua e minerali. Queste sono tante piccole cose che abbiamo provato a fare. Incontrare delle persone che erano partite da Lauria. Io ricordo una vincenziana nell'ospedale di Chang. Quale età si è di Lauria? Io ho fatto la sua ora, io sono stato a Lauria a fare la vincenziana. Cioè la possibilità di andare incontro al mondo, partendo da una piccola realtà come Lauria, come può essere Nemo, Drivello o Trecchina, è un'opportunità immensa che questo club dà nell'aprirsi al mondo. Bene, un augurio per concludere, dottore. Le feste, sì, sono vicine, ma ancora accettiamo. Cosa ha con le Rotary Club a tutti, seguaci e non, per il 2019? La pace. Perché un'altra linea di azione che la Rotary Foundation fa è quella della pace. E quindi, brevissimamente, Presidente, poi un 2019 scoppiettante. Ci puoi anticipare qualcosa prima di chiudere? Sì, ti anticipo tre temi importanti che il club ha deciso di trattare. Non so se l'abbiamo già detto prima, lo ripeto. A livello internazionale, ogni mese, ha un tema che il Rotary ci dà per poterlo poi sviluppare, declinandolo con le specificità del territorio, per poter approfondire tutte quelle che sono le linee di azione del Rotary International. Quindi ogni mese ha un tema. E all'interno di questo è nostro, come dire, privilegio e diritto poter andare ad affrontare le tematiche. Quindi ogni mese, ripeto, ha una sua specificità. Allora, dico subito, molto brevemente, sono delle iniziative che ritengo davvero molto importanti, anche perché i partner che abbiamo individuato travalicano ampiamente il territorio. A gennaio riusciremo a fare con l'Istituto Bruno Leoni e con il dottor Antôn Luca Cuoco, che di recente ha fatto una bellissima intervista alla professoressa Fornero, proprio per farci capire bene alcuni temi economici, la presentazione del libro Cosa succede se usciamo dall'euro. Quindi un tema assolutamente importante, attualissimo, che ci aiuta ulteriormente ad approfondire alcune tematiche, a capirle con un linguaggio che è quello dell'economista, quindi non del semplice divulgatore come posso essere io, puoi essere tu. Ed è una presentazione importante. Le date sta per essere presentate in questi giorni a Milano, verrà presentato a Salerno d'Avellino a gennaio e ho chiesto all'amico Antôn Luca Cuoco di fare anche un passaggio a Lauria. Faremo nel corso dell'anno prossimo un convegno sul testamento biologico e sul fine vita. Se ne è già parlato a Lauria sicuramente, però noi abbiamo un'occasione particolare. Verrà l'avvocato Franco Di Paola, del nostro foro di Lago Negro, è un avvocato di Sala Consilina, che è nel collegio difensivo di Marco Cappato. L'altro giorno ero in Corte Costituzionale, è un amico, è un collega, e avremo un punto di vista davvero privilegiato, cioè di colui che sta discutendo questo aspetto in Corte Costituzionale, ha discusso, è uscito da poco il provvedimento della Corte Costituzionale. Quindi è un tema, anche questo, molto importante. sicuramente affiancheremo questa visione più laica, anche con una visione più, diciamo, cattolica, tradizionale, perché è importante fare un dibattito che sia il più possibile aperto. Sto pensando per esempio al dottor Magno, che è il nostro socio, ma voglio dire, i dettagli poi li approfondiremo. E poi nel mese di febbraio, e qui chiudo con le anticipazioni, il 23 febbraio 2019, la data è stabilita già, perché è l'anniversario del Rotary. Il Rotary è stato fondato il 23 febbraio del 1905. Quindi il 23 febbraio 2019, anniversario del Rotary, ed è il World Understanding and Peace Day, cioè il giorno della comprensione e della pace, con il senatore Gianni Pittella e l'ambasciatore Dauria, tratteremo un tema sempre attuale, sempre in movimento, le angolazioni le potremo decidere, chiaramente anche a secondo della più stretta attualità, Mediterraneo e Medio Oriente. È un tema sicuramente molto dibattuto, ma sicuramente molto importante per noi. L'Italia è al centro del Mediterraneo, e nel bene e nel male, questa posizione incide molto sulla vita di tutti noi. Quindi queste sono le tre manifestazioni più importanti che stiamo cercando di portare avanti. Per il resto, la nostra intenzione è quella di essere sempre più presenti comunque nel territorio. Quindi queste manifestazioni, che possono sembrare, come dire, magari anche sterili, manifestazioni intellettuali, non è così. Ritengo che non sia così. Noi c'eravamo visti quando stavo per entrare in carica, o ero appena entrato in carica. E tu mi chiedevi, io ti dicevo quello che volevo fare, e credo che queste manifestazioni, queste attività, rientrano in quello che era il mio impegno con te. Cioè cercare di impegnarci per la cultura nel nostro territorio. Ci sono tante belle teste, tante belle intelligenze, e dobbiamo soltanto, come dire, impegnarci di più per farci conoscere, per comunicare quello che già c'è di buono. Grazie Presidente, in bocca al lupo.